Benvenuti nel mondo degli orologi Paul Picot. Paul Picot è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1976 da Mario Boiocchi. Il nome dell'azienda deriva dal designer di orologi Paul Picot, che ha collaborato con Boiocchi per creare i primi modelli dell'azienda. Da allora, Paul Picot si è guadagnato una reputazione di eccellenza nell'orologeria svizzera, producendo orologi di alta qualità utilizzando tecniche tradizionali e materiali di prima scelta. La gamma di orologi Paul Picot comprende modelli per uomo e donna, tra cui orologi sportivi, cronografi, orologi da polso e orologi da tasca. Tutti i modelli sono caratterizzati da un design raffinato e dalle finiture di alta qualità, che conferiscono agli orologi Paul Picot un aspetto elegante e sofisticato. Paul Picot è un marchio di nicchia che si concentra sulla produzione di quantità limitate di orologi di alta qualità. Questo approccio consente all'azienda di mantenere elevati standard di qualità, offrendo ai collezionisti di orologi di lusso e agli appassionati di orologeria pezzi unici e pregiati. La precisione e l'affidabilità degli orologi Paul Picot sono apprezzate dai consumatori che cercano orologi di alta qualità da utilizzare sia per occasioni speciali che per l'uso quotidiano. Il design degli orologi Paul Picot è caratterizzato da una grande attenzione ai dettagli, con finiture artigianali e materiali di prima qualità. La scelta dei materiali utilizzati, come l'acciaio inossidabile, l'oro e il titanio, garantisce la durata e la resistenza degli orologi Paul Picot. Inoltre, i quadranti degli orologi Paul Picot sono realizzati con cura, utilizzando tecniche di stampa e incisione di alta precisione. Gli orologi Paul Picot sono apprezzati anche per il loro movimento meccanico, che garantisce una elevata precisione. Inoltre, Paul Picot offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per i suoi orologi. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di cinturino, finiture della cassa e quadranti personalizzati, creando così un orologio unico e personalizzato.